Sono io, Steven Universe, re delle lesbiche. Ecco le mie lesbiche. Io sono quella nera, con grossi pugni. Io, io sono, io sono mamma uccello. A quanto pare sono un uccello. Oh, e bre, io sono quella viola, con grosse tette. Ma non è che abbia le tette, è tipo un diamante o boh. Ho una frusta. Sono un po' pervertita. Attenzione, a un coso, dobbiamo combatterlo. Oh, oh no, le ha uccise tutte. Aspetta, no, sono... Non sono morte, stanno bene. Veloci, dobbiamo combattere. È morto. Ora banchettiamo. Con le sue carni. Buon appetito. Ah, noi fumiamo la crystal meth. Oh, ehm, già crede. Ha ha, hai subito un clickbait, stupido idiota. Pensavi che sarebbe stato un doppiaggio su Steven Universe, invece sarà un'invettiva contro Steven Universe, sul perché non mi piace Steven Universe. Ok, il mio primo problema è che Steven è davvero grasso e questo sarebbe ok, puoi mangiare tutti gli hamburger che vuoi, ma è ambientato in America dove c'è un problema di obesità infantile. E quindi promuove queste abitudini non salutare ai bambini e questo non va bene, ok? E il mio secondo problema è che usa il Cal Heart Style da Rebecca Sugar. E che razza di nome è comunque? Rebecca Sugar? Cioè, lo sapete che lo zucchero nutre le cellule del cancro, vero? Lo sapevate? Beh, io scommetto di no, ma... Clicca mi piace se il video ti ha informato. Ehm, odio Steven Universe.